Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Yuzzi alla guida e oggi ce ne stiamo andando in un bel bando, il bando dei suicidi Lo abbiamo chiamato così perché ci sono talmente tanti modi per ammazzarsi, invece da stare attenti sia a cui guardo sia a piedi Oggi c'ho una sfida per Manuel, praticamente, per la Hero Set Black che è dentro questo mountain di più Me l'ha chiesto ieri sera a mezzanotte e io per sto parlo oggi ho dovuto fare i miracoli Quindi ho detto, io te lo stampo, ma te lo do solamente se tu ti fai il dive Dentro là quel buco che passa per tutti gli otto piani Se tu fai quel dive, io ho detto, ti do il mount, altrimenti me lo riporto a casa Eccoci arrivati al bando Ti piace questo mount? Ti piace? Lo vorresti? Prima il dive e dopo il supporto Vedete che figata? Questo edificio, quello è quello lì giù, che non hanno finestre Sono dei cilindri senza nessun tipo di apertura se non sul tetto E dentro è nero più totale, solo nero, non c'è proprio niente Mentre sulla base ci stanno dei piccoli buchi con delle canaline Questo che significa? Significa che se noi buttiamo il quad dentro a questi buchi, a questi palazzi, tipo quei tre buchi Una volta che il quad entra lì dentro è perso completamente, non c'è alcun modo per recuperarlo Quest'altra invece, questa striscia qui verde che vediamo qui davanti È il dive che dovrà fare Manuel Infatti Vedi che è la faccia terrorizzata? No, non lo faccio Il mount lo vede con binocolo Presente bisogna entrare in quelle finestre dell'ultimo piano Girare leggermente a sinistra Calarsi giù Affionda Lì sotto c'è l'apertura, quindi ha una piotta e mezza in caduta libera Bisogna uscire, evitare tutte le fratte e poi si torna di nuovo fuori Guardatevi qualche clip e poi ci vediamo dopo Musica Ma che c***o stai andando? Ma perché vai da lato? Mi sono fuggato Ma famo, non ti ha pisciato Ma famo, non ti ha pisciato Ho appena fatto il dive più bello della mia vita Confermo L'ha visto pure lui Atterro e la copro sera scaricata non ci crede quindi dato che sto rosicando come un animale ora ci ho messo cambiato quadro e ci ho messo l'airosette e lo devo fare solo su life quindi speriamo che tornerà a casa sta airosette, tanto assicurato dagli in bocca al lupo che schifo l'hai tutta sbavata a 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 La Gopro ancora funziona Sono riuscito a fare il dive, l'avete visto già Sono troppo fomentato, troppo contento, troppo soddisfatto Non avete idea di quante volte ci ho provato Ragazzi, Manuel si sta cagando tutto, non vuole fare il dive Non lo vuole fare Vabbè, invito tutti voi a venire a fare il dive in questo posto Io voglio fare una sfida ufficiale a tutti i piloti di Roma Dovete venire qua e fare quel dive Voglio vedere quanti di voi riusciranno a portare il drone sano Ho crepato il vetro qua Apposto, tanto lo devi cambiare Ok, ma se lo scanno da lì a otto piani Sicuramente non è solo il vetro che rompo Secondo me no Poi ce n'è un altro di drone, no? Sì, con la Euro 7 ci vede che ci vai Scusami Ecco la foglia dentro lo zaino Guarda, facciamo una cosa Ti presso la mia Euro 7 Giura? Tieni Giura? Vabbè dai, ora vediamo Devo provo a vedere Dai, proviamo Non ti assicuro niente Sicuramente non lo faccio Dai ragazzi No, che sicuramente non lo fai? Lo fai? Dai, quindi se pubblicherai questo pezzo Non l'ho fatto No, allora, facciamo così Se la prossima clip ci sarò io chiarito come un matto L'ha fatto al buono Ora però, come potete notare Stiamo andando Tutti attrezzati E il buon Tore Manuel C'ha la radio in mano Accesa E indovinate perché? Vedate dove è andato Secondo voi Manuel Dove l'ha buttato il quad? Sopra al silos più lontano Che è lì sopra Non sappiamo se È dentro il silos proprio Se sta sul tetto Perché doveva fare il fenomeno? Un dive sulla parete Per esercitarsi Per poi fare Quello Che ho fatto io In cambio del mount E niente Viene ha dato troppo gas Invece di entrare nel dive È entrato nel tetto Quindi Ci facciamo Sti otto piani a piedi Porco Giuda Anzi Sono dieci Perché dal pian terreno fino a su Un bel viaggetto Raga guardate che figata Abbiamo trovato uno dei mini container aperti sotto Sono circa tre piani di dive Però l'uscita è un po' problematica Perché Sono tutte colonne Adesso Stiamo sul tetto Su uno dei vari tetti Questi qua Ci sono buchi che danno Dell'infinito Guarda che buco Oddio questo qua è il prossimo dive Mamma mia Qua è pericoloso Dobbiamo stare Attenti a dove mettiamo i piedi Perché veramente Basta un attimo Eccoci qua Il code dove stava Ancora registrando Sì Oh Ash Anzi ragazzi Sai che vi dico Dato che lui comunque si è impegnato Non l'ha fatto il dive Che ho fatto io Però vabbè Lo posso capire Perché E' scherzo Vabbè lui ha iniziato da meno anni di me Quindi ci può stare Però ci ha provato Ci ha messo del suo Ha provato a fare il dive Sulla Sulla facciata del palazzo Vabbè Gli ha detto male Grazie Così la prossima volta Faremo anche noi il dive Con Vediamo se la sua grana Come la mia Spingi Spingi Top Grazie Yuri Dato che siamo saliti così tanto Vi faccio vedere il dive che ho fatto Da una prospettiva diversa Stessa camera Ma dalla mano Raga Fa veramente Veramente impressione Ma soprattutto La cosa più brutta Di questo posto A parte il pavimento Che è Tappezzato di buchi Adesso faccio vedere a Manuel Il silos Allora Già questo qui è silos Guarda dentro Guarda Vedi qualcosa No Però io ho trovato le scale del silos No io non sono molto convinto di infilammici però Anche perché sotto sta caga di piccione Potrebbe staccere i buchi Quindi Però se c'è la scala Potrebbe essere la sfida del prossimo video Cadere dentro un silos e recuperarlo No niente scala boss No scende al piano Ma i silos Sono tenuto a stagna Non posso ne saperti Secondo me si calavano Dasti i buchi Però io faccio un altro test di botto Questo qui Piccione 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 Devo dire ragazzi Che questo ragazzo Questo ragazzo È un grande Emo Questo è un grande Cazzo Guarda che non è facile Io sfido Ufficialmente I freestyler romani A venire qui Romani e non solo Romani anche torinesi Tipo il Frank Citro Ma pure i ragazzi Di che so Ci sono Diattuati a Napoli Chi vuole Viene qua Mi iscrive E ce lo porto Venite con tanti qua Dai che questo posto Non perdono Sfira aperta a tutti Noi siamo qua Quando volete Ragazzi Ovviamente Come sempre Un bel like Commentate qui sotto Se avete qualche domanda Qualche consiglio E come sempre Iscrivetevi al canale Un saluto a Jussi Un saluto da Torem Ciao ragazzi Buon volo Al prossimo video Bella raga